Vincenzo, non peggia, non è partita. Io sono Giuseppe, vengo con te. Allora ci mettiamo contro lui, così, così, vedi meglio. Sei pronto Vincenzo? Sei tutto, hai visto più o meno? Bene, non ti vedo molto, però vabbè, tutto a posto. Ok, ogni tanto guardami, sorridi e ci vediamo su. Grazie. 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 Grazie.